Cuppone, che cosa è cambiato con questa prima settimana di lavoro di Zeman? No, siamo contenti del lavoro fatto durante la settimana, c'è un po' di dispiacere per come sono andati gli ultimi minuti domenica perché siamo partiti forti, volevamo veramente la vittoria e alcune cose c'erano già uscite per quello che voleva il mister purtroppo c'è stato qualche errore che vedremo questa settimana e cercheremo di risolverlo. Ti chiedo subito com'è andata la prima giornata dei gradoni? Bene, bene, andata bene. Perché sorridi? No, no, perché sapevamo a cosa andavamo incontro, io già l'avevo avuto il mister quindi so già il lavoro che ci vuole fare quindi siamo carichi che vogliamo far bene, vogliamo arrivare pronti per questi prof. Tu hai già conosciuto il mister a Lugano, se non erro, ti voleva anche lo scorso anno a Foggia. Qual è la caratteristica principale di Zeman? Se i tuoi compagni dovessero chiederti di Zeman è la prima cosa che gli diresti? No, lui vuole un gioco propositivo, un gioco che va avanti, è un gioco che attacca tanto gli avversari quindi li mette nelle guardie, quindi specialmente per gli attaccanti è veramente tanta roba perché vuole che ci servano subito per avere le nostre giocate, quindi sono contento per questo e non vedo l'ora di far bene. Dove ti sta provando di più il mister? Ha detto espressamente in conferenza a Zeman che tu puoi giocare in tutti e tre i ruoli lì davanti ma dove ti sta provando di più? No, mi sta provando un po' dappertutto così vede pure dove posso rendere al meglio. Ma per ritornare il cupone dei primi due mesi di campionato cosa manca? No, non manca niente, manca solamente un po' più di attenzione, un po' più di forse lavorare meglio durante la settimana per farmi trovare pronto bene la domenica. Che partita ti aspetti ad Agropoli domenica? Chiudiamo? Credo come l'andata, loro è una squadra che sicuramente ci aspetterà dietro, dobbiamo essere bravi a trovare le giuste misure davanti i giusti spazi, lavoreremo questa settimana proprio per questo e per provare a vincere domenica. Hanno un po' male le gambe? Un pochino, un pochino.